Una giornata per ricordare che l'asma bronchiale, ad esempio, è una delle patologie croniche più diffuse e in età pediatrica rappresenta la malattia cronica più frequente, interessando circa un bambino su dieci nei paesi occidentali, con notevoli ricadute in termini di spesa sanitaria, oltre che di assenze scolastiche e lavorative. Una patologia che va affrontata molto seriamente, privilegiando e promuovendo l'informazione e la prevenzione. È data dall'allergia, in particolare l'80%, dal più del 60% fino all'80% i bambini dopo i due anni sono allergici, cioè l'asma è causata dall'allergia, mentre nel bambino più piccolo più le infezioni virali. E le allergie sono aumentate a causa dei cambiamenti climatici, a causa dell'aumento delle temperature, all'aumento dell'umidità. Allergeni che prima erano poco rilevanti, adesso invece sono diventati più frequenti, quali ad esempio l'artemisia, l'ambrosia e anche la cannabis. Inoltre invece le stagioni spolliniche iniziano prima, sono più lunghe, sono più intense e danno problemi respiratori più importanti e più gravi. La diagnosi precoce e il trattamento adeguato sono essenziali per il controllo dell'asma e per prevenire complicazioni gravi. Le spirometrie sono un test semplice, non invasivo, che può aiutare a diagnosticare l'asma e a valutare la sua gravità. Avere una diagnosi precoce permette anche la riduzione poi di quella che è la patologia complessa, che spesso e volentieri purtroppo può portare anche a forme invalidanti, a forme di riduzione nell'ambito interattivo, sociale. Quindi mi fa piacere che tutto il territorio, c'è una grande risposta anche da parte delle scolaresche, delle scuole, a porre un'attenzione particolare. Oggi spirometrie eseguite gratuitamente in occasione della giornata mondiale dell'asma. A Pescara i referenti del Centro Regionale di Allergologia e Pneumologia Pediatrica di Chieti, coordinato dalla dottoressa Sabrina Di Pillo, hanno incontrato gli studenti delle scuole superiori di Pescara.